grazie tocca non avere paura tanto arrivi qua ti fermi guarda lui guarda lui guarda lui guarda lui guarda lui guarda guarda lui 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 troppo vento troppo veloce troppo veloce non hai toccato il cavallo la moto è stata spingata via 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 bravo bravo ok ordina i movimenti questo l'hai fatto giusto il tempo che è uguale a prima andava bene fai il sartello e tira di su via non pensare di devi farlo fluido schiacciata vai oh pie no x staff e al all i e i i i i i i i forse tutto il mio dietro ah questa sarà la girata banano guarda alzino 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 Non è facile Non è facile Non è facile Non è facile Se il peso è spesso Spiega le ginocchia quando ci sono asciugati Spiega le ginocchia quando ci sono asciugati No, no. Ok, vai! Solo quello, vai! Go, go! Ok! Vai! 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 Tutto coloco peso in squadra